Il Memorial Gianni Scalera prevede un lavoro che parte già dal giorno dopo, la fine dell'edizione precedente, un anno intero per realizzare un Memorial di grande livello. Uno degli organizzatori, una mano d'opera importante, possiamo definirla così, è Attilio Larocca che abbiamo qui. Salve, buongiorno a tutti e benvenuti a tutti quanti al decimo Memorial Gianni Scalera. Sì, come dicevi tu, c'è un grandissimo lavoro. Sabato sera finiremo, dopo verremo cose di fresca insieme come sempre quando finisce l'ultima finale, la premiazione. E già da quel momento incominciamo a trarre le prime conclusioni di cosa è andato e cosa non è andato. proprio per ogni anno cercare di migliorarci e fare sempre uno step di un livello superiore. Quest'anno siamo arrivati al decimo Memorial e penso che abbiamo preparato qualcosa di importante. Come qualcuno già saprà, ci sono squadre professionistiche del livello della U.S.Tabi, della Vaganese e addirittura quest'anno c'è una squadra di livello importante come l'Udinese che ci onora della sua presenza e fa sì che il livello di questa manifestazione sia sempre più alto. Niente, dico la verità, manca pochissimo alla partenza e come ogni anno, sembra strano, sono passati dieci anni ma l'emozione è sempre grandissima. Viviamo questo momento con una grande trepidazione perché ci teniamo tantissimo a questa manifestazione e per tutto quello che circonda questa manifestazione. siamo un gruppo, devo dire, ogni anno più numeroso. Noi non invitiamo nessuno, sono i nostri amici che vogliono dare una mano per questa manifestazione e far sì che diventi veramente un momento di aggregazione grandissimo con questi ragazzi che sono lo specchio del futuro del calcio, del divertimento, della società, del futuro. E niente, credo che riuscirà una grande manifestazione come ogni anno. Noi Attilio siamo proprio all'inizio del Memorial, quindi non abbiamo tantissimo tempo. Io però un'altra domanda te la devo fare è d'obbligo. Il Memorial Gianni Scalera nel nome di una stella. Assolutamente sì. Sono emozionato. Tra l'altro questa è una vicenda che mi tocca anche personalmente perché io anche ho presso un fratello, l'Edoardo è un figlio, è un fratello giovanissimo e oggi è il suo compleanno pure, mi permetto di ricordarlo perché tutti questi qua lo conoscevano tutti e niente, non so che cosa c'è, forse è qualcosa che viene dall'alto veramente, ma ce l'abbiamo nel cuore tutti quanti, lo facciamo con cuore, ognuno di noi fa dei grossi sacrifici, chi per il lavoro, chi ho a livello organizzativo ed è per questo che ogni anno riusciamo a fare qualcosa di veramente importante e noi ne siamo assolutamente fieri che questa cosa si faccia in una città come Caserta, in una regione come la Campania dove purtroppo non si vive un momento importante ma questo è un momento dove ci deve dare quel raggio di luce, non mi viene il gergo adatto, però che ci dia veramente la possibilità di poter emergere definitivamente da questo buio totale che stiamo vivendo. Grazie. Ok, ciao, buona serata, buona manifestazione a tutti.